Sono Lino Manfredi, avevo appuntamento con il regista. Insomma, mi dica che lei la vuole un po' più... Stop! È inutile. Lei ha una faccia troppo normale. Grazie dell'incoraggiamento. Prego, prego. A cento anni dalla nascita... Insomma, mi dica qualche cosa, ecco. Viene dalla ciocciaria, però. Che si sentiva l'accendo? L'omaggio di Rai 1... L'hanno cercata. È una produzione cinematografica. Lo vedete che piano piano cominciava a ingranare. Era proprio necessario farmi biondo. Ha un talento indiscusso. Anch'io lo vidi un giorno. Era un gran re. Con le musiche del premio Oscar, Nicola Piovani... L'hanno preso a canzonissima. Elio Germano... E' il meglio! Addirittura! In Artenino... Fusse che fosse la volta buona. Sabato 21 e 25, Rai 1.